Le associazioni Nuova Pescara, consiglieri comunali emeriti di Pescara e verso Nuova Pescara preso atto dei gravi ritardi nel liter della legge regionale 26 del 2018 per la fusione dei comuni di Spoltore, Pescara e Montesilvano e considerato che la scadenza del 1 gennaio 2022 è stata procrastinata al 1 gennaio del prossimo anno, hanno scritto una lettera alle istituzioni e consiglieri comunali delle tre città invitando tutti ad opporsi a qualsiasi iniziativa tesa a determinare un ulteriore rinvio della scadenza della legge. C'è una sfera pubblica che non ha fatto mistero di essere contro questa fusione il fatto che il tempo dei favorevoli e dei contrari è finito e c'è una legge regionale che deve essere semplicemente attuata e io credo che i decisori pubblici farebbero bene a fare il loro mestiere favorendo l'applicazione delle leggi non perseguendo il contrario ma in più ora c'è un momento che è derivato da fattori spiacevoli come è noto dalla pandemia c'è un piano nazionale di emanazione europea che mette a disposizione delle risorse impensabili prima. Programmare le risorse significa fare i progetti, per fare i progetti significa fare prima dei programmi, significa avere le idee chiare ma non in termini di municipalità di singoli comuni ma in termini di comunità di Nuova Pescara quindi noi dobbiamo entrare nell'ottica della Nuova Pescara al più presto per poter poi elaborare dei programmi e dei progetti utili che possono essere finanziati dalla comunità dal piano nazionale. Nel mirino delle associazioni quella che viene definita soprattutto la titanza della regione Abruzzo. Indubbiamente la regione in generale la politica ha abdicato al dovere di applicare una legge che lei stessa ha votato all'unanimità cioè qui abbiamo una legge regionale votata all'unanimità e poi una serie di soggetti che avrebbero dovuto far applicare e gestire una legge che hanno deciso che non sono in grado. Ora è una cosa particolare e la buttò lì con una battuta. Di solito sono le istituzioni che dicono ai cittadini di rispettare le leggi. In questo caso sono dei cittadini che stanno dicendo alle istituzioni rispettate le leggi.